Via! 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 Ucchia guarda che c'è qui per qui! Dai voi chi vuoi, c'è la cosa! 540, ecco! Questa, la terrazza! 440, ecco! 540, ecco! Giretti che vediamo il numero! Giretti per favore! Giretti, chiamatevi Samuele! 541! Gira fai girare l'altro! 541! 541! 541! Che numero ha? Chi vuoi? Vai avanti Mandricchi! 345! 345! 645! 445! 645! Ma scusa! Se andate in Vizzera a fare... Eh! Ma con il Capparoli! 168! I Capparoli! Mettere la... o la... di... ...sucine! Ehm! Ehm! 656! Bravo dai! Bravo dai! Bravo dai! Bravo dai! Eh! 157, 297, 623, 217, 25 anni e ne distingueremo.